E ciao a tutti bella raga, oggi siamo in un nuovissimo video e allora faremo queste challenge, io e il mio amico, cioè non è challenge, faremo tutte le missioni, visita luoghi indicati diversi, andiamo l'anno dai Ok vai Nico buttati a lago Allora noi faremo qualche missione raga Io sono già due su tre oro quella, l'ho già fatta una volta, tre volte qui Poi io sto qui, no sembrava un po' Nico sei nella mia casa? Sì, pensavo che era una persona Allora qua ha cascato la dimensione Che cos'hai? Uh buono Allora Io ho una pistola blu e un pompa blu Vuoi uno scildino? Te lo lancio Eh sì C'ho tutto blu unico Vai Ho lasciato il Il rompo Ce l'hai la mitraglietta Sì sì Dove? Tu stai bene io sono tutto bianco Più che bene io Aspetta, visita luoghi indicati, andiamo a soborgi Ma te, cioè io andavo a forse È impossibile Vabbè Nico vieni che andiamo a soborgi Allora guarda dove è il suo Allora guarda dove è il suo Mi viene a prenderci il tuo favore Vai facile Uccido Per più di C'è un altro C'è un altro C'è un altro Non sta prendendo Vai Ci hanno fatti già due team scarsissi eh Però Vieni Non ci hanno fatto un altro Sì Vieni Nico qua Eccolo qua Vieni Vieni Non lo ricordo Aspetta un attimo Qua c'è passata Questa la gente forse Ci andiamo C'è il dono Sì Cosa ti sei fatto? Almeno Aspetta che mi faccia il specchio L'agasfalto verde anch'io Vai Vai dove ho pingato C'è il dono Vedè ci moriamo Adesso non c'abbiamo il lato No Oddio Oddio Io mi sono salvato Calendo Sono uscito dalla macchina Ho visto come vedo bene E Se ce l'hai Così più piccoli Ti continuai Dovate Vieni qua Vieni Vai Indiamo dopo Vieni qua Raga me l'avete vista Le nuove La scopa E Quella tipo di mitra hier un aspetto in un traghiera ma non è un aspetto ci siamo fatti non fare oh c'è una scuola no non è un aspetto No, 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 no. No, 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 no. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Porta lì te gli shieldini che non ho più spazio. Porta lì te gli shieldini che non ho più spazio. Eh, dove ti sei? Tieni te li do. Tieni te li do. Tieni te li do. Eh, però c'ho le granate lì. Vabbè, allora dammeli a me. Vabbè, allora dammeli a me. Tanto c'è, ce l'ho la spazio ma poco. C'è, ce l'ho la spazio ma poco. Vieni. O c'è ne è subito piccolo. Eh, infatti. Perché non lo stai a tenere? Vabbè, rimaniamo qua. Vabbè, rimaniamo qua. Vabbè, rimaniamo qua. Eccolo là. E io c'è tutto blu. Io c'è tutto blu. Nico qua c'è un'arma blu perché è? Io c'è un'arma blu perché è. Dov'è? 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 Perché qua. È giù. Guarda dove è il suo amico. Guarda dove è il suo amico. Eh, aspetta. Come si faccia la share? Abbiamo ricordato. Ehm. Quello per prendere, vai. Quello per prendere, vai. Quello per prendere, vai. Là c'è poi il... Là c'è poi il... Mitragliezza... Ahia, dietro, dietro! Ahia, dietro! Ahia, dietro! Il suo amico. Il suo amico. Il suo amico. Dov'è? Mi lasci lo cildone, Nico, per favore. Ma io... C'è sempre tre. Aspetta, vieni che c'è un medico. C'è un medico. Vieni. Vieni. Vieni, Nico, vieni qua. Sì, Nico, vieni qua. Sì, Nico, vieni qua. Dammelo. È là. È dentro la casa, Nico. È dentro la casa, Nico. No, Nico, non farti lì tutte e due. C'è lì scelta. No, Nico, non farti lì tutte e due. C'è lì scelta. Sì, però... Sì, però... Grazie. Grazie. Vai, fatti. Oh, ci siamo fatti... Quanti... Ci siamo fatti... Quattori di... Cinque tiri ci siamo fatti. Sparano. Sparano. Aia! Aia! Oh, eccolo là! Oh, eccolo là! Sparano. No, io penso che... No, uno penso che era trascato. No, io penso che era trascato. Vai. Oh, ci stiamo facendo un bot di Dima. Poi c'è un bot di Dima. Un bot di Dima. Qua c'è un pop a blue per te. Qua c'è un pop a blue per te. Qua c'è un pop a blue per te. siamo fatti unico io attivo una foglia allora andiamo là dove c'è il coso blu io lì dove ci ho finito dello shield dico non usarli troppo così almeno l'hanno usato una giampetta guardate come si usa è bellissima raga proprio l'animazione bella vieni qui mico non l'avevo mai vista siamo qui dio mio sai quei rovi che si muove anche a me mi sembra della gente siamo in 19 faccio no ah raga vi dico un consiglio mai spaccargli del tutto gli alberi ok allora ho sbagliato però non staccargli del tutto se no segnalate la vostra posizione ma perchè adesso non c'è davvero la posizione la ma perchè un'altra mica non ho sparato a quello lì io c'è tutto blu ora un'arma ammettica il portaletto è il display oddio mi ok quella bellissima raga vediamo andiamo a raccogliere i dolciumi io devo farci a proposito dove sono? ah raga scrivetemi spettano i commenti se voi sapete dove sono i oh nico eccoli nico eccoli nico eccoli vedete stiamo facendo un video ok ma io no aspetta però devo tornare vita c'è gente la c'è gente la c'è gente la 504 50 4 là ok 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 c'è grassato no mi basta ah no mi basta aspetta Vai raga Guardate Guardate ora che arma mi faccio Questa è l'arma più forte al mondo Andiamo all'eye drop E' qui accanto a noi Io direi di andare sopra gli altri Poi qua lo chiudiamo così Almeno non ci lo fare Ok vai Oddio Ok bravo Va qui Vai vai Ok va bene Uh è atterrato Non ciò Non ciò Non ciò Non ciò chianti finito sì che allora dovrà rinunciare si rinuncia agli flash è lì vabbè però se non si vuole più sì lo so io non ho più fatto però è spesso prendiamo insieme dove lì in safe mica non so se lì c'è gente qui attento che hanno bruciato non so se c'è ancora qualcuno qua c'è gente là Nico vieni qui che li laseri aspetta sì no ce li ho sottotirati andiamo in safe foie no cazzo nooo una scopa fai prendigli la scopa andiamo a bruciare no l'hai presa la scopa si si mi frega andiamo a bruciare andiamo a bruciare no io ce la devo qui no io ce la devo qui aspetta eccoli 34 e non l'ho laserato eccolo oddio Nico ce la faccio Nico no raga è crashato Nico è crashato è crashato no no raga no vabbè raga al prossimo video ciao raga ciao